Indossano un abito a strisce le due nane brune più vicine alla Terra, una coppia di stelle mancate a soli 6,5 anni luce e distanza. E' l'aspetto delle loro atmosfere per colpa di forti venti che soffiano paralleli all'equatore, creando delle bande orizzontali che ricordano quelle di Giove. Lo dimostra lo studio pubblicato all'Astrophysical Journal degli astronomi coordinati a Daniel Apai, dell'Università Americana dell'Arizona. Tra gli autori anche il giovane ricercatore di Bosco Reale, Domenico Nardiello, dell'Agenzia Spaziale Francese CNES e associato INAF. Per studiare le due nane brune, denominate l'Human 16A e B, i ricercatori hanno utilizzato i dati del telescopio spaziale TESS della NASA, che permette di analizzarne le variazioni regolari di luminosità. Gli studiosi si sono concentrati in particolare sull'Human 16B, con una massa circa 28 volte quella di Giove e una temperatura superiore agli 800 gradi centigradi. Le nane brune, spiegano gli autori dello studio, sono misteriosi oggetti celesti a metà strada tra stelle e pianeti. Hanno all'incirca le dimensioni di Giove, ma in genere sono decine di volte più massicce. I ricercatori hanno scoperto che l'aspetto della coppia inane brune-Human 16A e B ricorda proprio Giove, con la sua atmosfera caratterizzata a bande regolari modellate dai venti. Le atmosfere e le due nane brune, concludono gli autori, sono dominate da venti che fluiscono parallelamente all'equatore e contribuiscono a distribuire nei loro strati più esterni l'enorme quantità del calore ancora presente al loro interno.